Terza edizione per visite in gommone sul Bisenzio, l'iniziativa promossa dall'Associazione Artemia con il patrocino del Comune. La prima gita domani 6 giugno alle 21.30 con partenza dai giardini di Via Mendola. Gli altri appuntamenti sono previsti ogni giovedì fino al 25 di luglio. Sono un appuntamento ormai diciamo fisso del periodo estivo e noi cerchiamo appunto di guardare Prato da un occhio veramente insolito cioè visto appunto dal fiume, conoscendone la storia, le bellezze storico-artistiche che si affacciano sul fiume e anche appunto le caratteristiche del fiume stesso. Immutato invece il percorso. Li troveremo qui presso i giardini di Via Mendola perché abbiamo appunto un accesso facilitato al fiume dopodiché la visita partirà dal ponte alla Passerella fino al ponte 20 Settembre. Abbiamo una novità vera e propria di quest'anno ovvero omaggeremo tutti i visitatori di uno spuntino messo a disposizione dagli sponsor che sono appunto esercizi commerciali del centro storico che grazie a loro appunto ci delizieranno con prodotti tipici del territorio. I posti sono limitati per cui è necessario prenotare chiamando il numero 340-510-1749 oppure scrivendo a info-artemiaprato.it Il costo del biglietto è 20 euro ed è richiesto un abbigliamento adeguato.